...famiglia Agnelli, che poi in Italia vota sì, mi chiede la coscienza di classe come si sviluppa e come si manifesta, che sarebbe non andare a votare a questo punto. No, la coscienza di classe, come l'ha chiamata lei e me ne compiaccio, si sviluppa prendendo consapevolezza che la Costituzione deve essere difesa perché garantisce la dignità della persona umana, garantisce il lavoro come diritto e dovere, garantisce la sovranità nazionale, garantisce una libertà di imprese e di economia, dove però la libertà di imprese e l'economia non entrano in conflitto con la cosa pubblica e con l'interesse nazionale della comunità, quindi implica un'economia di mercato governata in qualche modo dallo Stato, ciò che è incompatibile, come lei sa bene, con l'odierno ordine neoliberista che spoliticizza le economie e impone un'offensiva costante al mondo dello Stato, liquidato come debole, come... Fusano sta diventando liberale da quando ha iniziato la trasmissione, è più che governata, regolata dove è necessario dallo Stato. Ma io ho detto semplicemente che l'Italia non è un paese socialista, ma non è nemmeno storicamente un paese capitalistico, classico, è un paese con forte presenza dello Stato, con un compromesso, diciamo così, che in essiano al suo interno, che fa sì che l'economia di libero mercato non entri in conflitto con l'interesse della comunità, con il bene pubblico. Questa riforma della Costituzione lascerà l'economia di mercato togliendo il problema della compatibilità con l'interesse nazionale e con il bene pubblico. Quindi si va verso un capitalismo post-borghese e desovranizzato. Sul discorso dell'elite, no, sul discorso dell'elite... ...un messaggio che è arrivato del signor Tiziano Botteri che dice La coppia Fusaro-Paganini è interessante, i loro figli potrebbero rappresentare l'intelligenza del futuro e con questa massima... I loro figli... Andiamo in pubblicità... Grazie.